buongiorno a tutti ragazzi e buon sabato allora continuiamo il nostro percorso con friertos oggi come vi accennavo alla fine della scorsa della scorsa lezione parleremo di quelle funzioni che ci permettono di andare ad eseguire delle operazioni sulle priorità delle azioni una volta che lo scheduler è stato già avviato quindi partiamo subito con il codice che già mi sono già mi sono portato avanti inoltre dopo vi farò vedere una cosa molto interessante che è legata a quella questione degli eventi non so se vi ricordate no che vi avevo accennato di come un task può essere avviato perché a lui associato un evento ovviamente non ho creato proprio l'evento di friertos ma è giusto per farvi più o meno capire comunque ne parleremo fra un po allora quindi partiamo con la prima funzione che andiamo a vedere le prime due perché le ho create entrambe la v task priority set e che cosa fa la v task priority set in pratica la si va a utilizzare per cambiare la priorità di un task una volta che lo scheduler è stato avviato quindi se noi torniamo qui sul nostro fantastico manuale troviamo v task priorities eccola eccola qui e poi vuol anche la uta la ux task priority get in questo primo esempio utilizzeremo sia questa che questa lo iniziamo intanto con questa eccola qui innanzitutto non restituisce nulla in ingresso vuole l'handle perché vi ricordate che vi avevo già accennato ad un esempio del genere per spiegarvi che qua a cosa serviva l'handler e poi vuole un nuovo valore della priorità che è di questo tipo u base type underscore team benissimo poi l'altra funzione invece che è la ux task priority get che già è intuibile dal nome in pratica richiamandola lei ci restituisce la priorità del task che noi inseriamo qui perché questa vuole solamente l'handler del task ovviamente se la utilizziamo in un task che noi vogliamo sapere la priorità del task stesso dove essa viene chiamata basta metterci nulla benissimo quindi andiamo a vedere un po che cosa ho fatto qui ho dichiarato i due ho creati due task task 1 e task 2 al task 1 ho dato priorità 1 al task 2 ho dato priorità 2 queste sono le due funzioni la prima eccolo qui e che cosa vado a fare in pratica stampo una scritta sul seriale poi dopo mi vado a salvare in queste due variabili il valore attuale quindi in questo punto del sia del task 1 e quindi infatti ho messo null perché lo sto richiamando all'interno dello stesso invece mi vado a salvare in quest'altra variabile la priorità attuale del task 2 ed essendo che sono nel task 1 devo metterci il suo handler benissimo me le vado a stampare aspettate che questo adesso non serve me le vado a stampare benissimo e qui vado a impostare un nuovo valore della priorità del task 2 attraverso la priorità del task 1 adesso che lo eseguiamo sarà tutto più chiaro stessa cosa vado a fare qui solamente che qui decremento il valore della priorità del task 2 infatti vedete che l'handler essendo che io voglio cambiare quella della priorità dello stesso task ci metto null ok salviamo scostiamo questo qui e andiamo a vedere che cosa esce fuori carichiamo ripuliamo aspetta perché forse ci ho ecco ci ho lasciato sì scusate che prima stavo facendo la il test di quell'altra funzionalità che volevo farvi vedere dopo ok ecco allora andiamo ad analizzare quello che accade dalla linea all'inizio quindi essendo che il task 2 a priorità 2 verrà eseguito per primo giustamente quindi andiamo nel task 2 salverò queste due variabili e mi verranno stampate qui quindi noi sappiamo che all'inizio il task 2 a priorità 2 ed eccola qui task 1 a priorità 1 benissimo poi scendendo sotto che cosa accade che decrementiamo di 2 la priorità del task 2 quindi 2 meno 2 fa 0 quindi adesso lo scheduler che cosa vedrà vedrà il task 2 con priorità 0 il task 1 con priorità 1 quindi sceglierà di fare seguire il task 1 ok infatti viene eseguito il task 1 quindi andiamo sopra task 1 is running salvo questi due valori che infatti ora sono 1 e 0 perché abbiamo fatto sotto 2 meno 2 poi andrò ad impostare la priorità del task 2 al valore priority task 1 che sappiamo essere 1 più 1 quindi 2 quindi di nuovo lo scheduler vedrà che ha due priorità però adesso la task 2 a priorità 2 la task 1 a priorità 1 quindi sceglierà nuovamente di far eseguire di far avere la priorità al task 2 quindi verrà eseguito di nuovo così e così via è periodico molto bene qui ho inserito il solito di lei in modo da leggere più agevolmente le stampe sul monitor ok quindi questo a questo servono queste due funzioni ora quest'altra quest'altro quest'altro aspetto che vi volevo far vedere no legato agli eventi è il seguente andiamo ad inserire un interrupt in cui utilizzeremo anche la funzione suspended che per adesso ancora non avevamo mai utilizzato e anche la funzione resume per adesso per utilizzare l'interrupt ho utilizzato esattamente l'interrupt di arduino quindi non ho utilizzato e gestito l'interrupt direttamente con frittos perché ancora non ci arriviamo come argomento quindi ho inserito un pulsante allora innanzitutto togliamo i commenti l'interrupt l'ho inserito al pin 2 questa qui è una variabile contatore adesso tolgo i commenti e poi vi spiego quello che ho fatto togli commento questa qui è la funzione di interrupt ok in pratica quello che ho voluto fare anche per utilizzare sia la vtask resume che la vtask suspended è la seguente cosa ogni volta che il sistema entrerà in task 1 incrementerà una variabile quindi come per dire quante volte il task 1 riassegna una nuova priorità più alta del task 1 al task 2 è quando questo valore di count sarà maggiore uguale sarà maggiore scusa e scusate non maggiore uguale maggiore di 10 il vtask il task 2 verrà sospeso ok poi attraverso un evento esterno lo andremo a riattivare e come lo andiamo a riattivare allora il circuitino è il seguente proprio veramente semplicissimo infatti ho utilizzato anche thinkercad attraverso un pulsante e in questo caso in configurazione di pull up andiamo a premere no questo pulsante e quindi il tutto sarà messo a massa qui verrà letto low e quindi entrerà in questa parte qui ok benissimo poi c'è un altro aspetto che di cui volevo parlarvi quando la funzione in quando una funzione in questo caso la task 2 ok questo if sarà verificato quindi sospenderà il task 2 quindi ci poteva anche mettere null qui queste funzioni dopo non verranno mai eseguite chiaro quindi lui in pratica si bloccherà qui e se tu qui ci metti un'altra serie al punto print questo è un'altra cosa che non piave che non vi avevo mai detto chiamiamolo blu ad esempio questa qui non verrà mai stampata quando quando questa questo if sarà verificato e perché è importante perché praticamente le prime volte che io mi sono approcciato al frirtosso ho detto vabbè questa sarà verificata però comunque sia tutto verrà eseguito poi appena tutto è stato eseguito questa verrà realmente poi portata a compimento invece no invece no perché quando fai suspended lui verrà sospeso quindi un quando tu lo riesumerai partirà esattamente da qui ok comunque adesso lo vediamo ok andiamo a caricare eccolo qui quindi abbiamo task 2 infatti vedete che c'è pluto il terzo valore indica il valore di count abbiamo due siamo arrivati qui a 4 poi 6 7 8 9 10 ma 10 non è compreso quindi dobbiamo aspettare 11 eccolo qua guardate un po 11 quindi il task 1 genererà l'11 poi verrà eseguito questo vedrà che è maggiore e vedete che pluto non verrà più eseguito cioè non verrà più stampato scusate scusate pluto non viene stampato e verrà eseguito solo il task 1 perché lo abbiamo sospeso vedete ora mettendo lo scorrimento automatico premerò il pulsante guardate eccolo qua che cosa che cosa vi ho detto prima che quando dopo voi lo riesumerete lui partirà esattamente da dove è stato sospeso quindi lui è stato sospeso qui e da qua ripartirà infatti guardate pluto esattamente questo e dopo verrà di nuovo fatto tutto task 1 task 2 task 1 task 2 fino a quando si arriva a questo punto qui che è lo stesso di prima rifacciamo di nuovo la prova ok spingiamo pluto di nuovo task 1 task 2 task 1 task 2 questo secondo me l'aggiunta di questo ultimo di questa ultima chicca diciamo credo sia molto importante perché vi fa capire un po che cosa intendevo con eventi certo forse la parola si descrive da sola è però credo che avere poi un riscontro pratico riproviamo di nuovo un riscontro pratico è sempre molto importante quindi ecco per oggi anzi per questo per oggi è tutto dai per oggi è tutto essendo che ieri non sono riuscito a fare il video lo sto facendo solo ora credo che oggi registrerò due video credo in ogni caso grazie spero che il video vi sia piaciuto se si lasciate un bel like ed iscrivetevi e alla prossima ciao ragazzi